a sorpresa locaplas ha tagliato la produzione di petrolio cosa fare ora sui mercati cosa faranno le banche centrali ce lo dicono gli esperti di house of trading io mi rigioco tesla tutta la vita un titolo che odio odio la carta odio odio l'azienda odio la macchina mi proprio non mi piace odio chi lo sai che tua moglie per il vostro anniversario voleva regalarti una tesla poi ha chiamato mia moglie la macchina più inquinante io l'anno scorso ho fatto 75 mila chilometri sostenibili 140 quindi da google è proprio tracce da google l'auto elettrica non mi piace proprio e quindi ci riprovo con gli stessi livelli ingresso a 189 stop loss a 208 e primo target a 161 più o meno sono gli stessi livelli della scorsa settimana spero stavolta di prenderlo è incredibile che questa azienda abbia dei muti quando si sta allineando completamente completamente al settore automobil tradizionale infatti sta abbassando i prezzi cioè è assurdo che quoti a prezzi dell'uso come ferrari è ridicolo questa si sta allineando al business di volkswagen di ford di general motors che abbiamo visto che vendono tantissimo sull'elettrico e quant'altro e c'ha dei multipli dieci volte superiori 50 contro 4 5 è allucinante assurdo la strategia perfetta sarebbe andare long di volkswagen o di ford di general motor di reno e short di tesla questa sarebbe una strategia perfetta ti è piaciuta questa strategia bene iscriviti al canale bmpp paribas attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dei trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17 30 ad house of trading e quindi